Nasce a Cremona l'Accademia Alberto Zambelli, un'alta specializzazione nel settore moda basata sui principi di assoluta armonia tra l'aspetto sartoriale e quello tecnologico, con attenzione a etica e sostenibilità, negli ambienti di Palazzo Guazzoni e Zaccaria, in corso Pietro Vacchelli. La scelta di fondare l'Accademia a Cremona parte dall'idea di unire la vita bucolica e l'elevazione artistica e musicale che offre la città. Una location di grande charme con saloni comunicanti che dialogano in una luce naturale tra freschi e quattrocenteschi e design contemporaneo. Oggi è una grande emozione perché abbiamo il primo Open Day dell'Accademia Alberto Zambelli nella città di Cremona, quindi sarà un'Accademia per l'alta sartoria a livello internazionale, quindi avremo studenti che arrivano dall'Oriente, ma anche da altri paesi europei, per cui da novembre partiranno i nostri primi master su questo tipo di formazione, moda e alta sartoria. Come si struttureranno questi master? Saranno dei master di tre mesi o di sei mesi, ma anche dei corsi brevi e stivi per professionisti che lavorano già nel settore. Abbiamo già degli iscritti che appunto a novembre raggiungeranno Cremona, si può già dare qualche numero? Abbiamo già degli iscritti, i master in realtà saranno dei master molto concentrati, con pochissimi iscritti per ogni corso, quindi non più di 12-15 studenti che saranno seguiti singolarmente. Ovviamente uno degli insegnanti sarà Alberto Zambelli, ci sarà qualcun altro che collaborerà? Certo, molti docenti che chiaramente sono professionisti di altissimo livello in Italia e in Europa e la mia parte invece sarà dedicata soprattutto al disegno, quindi allo sketch e al disegno anche estemporaneo. Una città a Cremona che guarda sempre più alla formazione e ai giovani. Sì, questo è molto importante, il segno che la città si apre anche su mondi diversi, mondi particolari, mondi importanti che possono portare qui giovani, fondamentalmente giovani, competenze di cui questa città ha un estremo bisogno. E poi ovviamente Palazzo Guazzone si è imposto rapidamente come un centro non solo di eventi ma proprio culturale e propositivo che fa bene alla città ma fa bene a tutti noi, quindi davvero un in bocca al lupo a questa esperienza certi che davvero potremo collaborare insieme anche nel futuro.